Intro Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo non episodio della Randomizer Nuzlocke su Pokémon Light Platinum Signori miei, nello scorso episodio abbiamo vinto la quarta medaglia E siamo giunti in cima a una torre nella quale abbiamo assistito allo scontro fra Lugia e Oh Oh Interrotto come al solito dal buon Arceus Mi avete detto nei commenti, me l'ha detto uno di voi, che in cima alla torre si trovava uno spiritom O meglio, un tipo ci avrebbe dato uno spiritom ed è vero Comunque ho evitato di andarlo a prendere perché comunque per la Nazloc non serve E quindi nulla, non ce l'ho in squadra A proposito di squadra, l'ho allenata Signori miei abbiamo Sasha 43, Tarzan 43, Bucefalo 44 Stavolta in sidebar l'ho messo giusto Rando al 43, sia a 43 e come poteva non essere John Frog al 45 L'eroe signori miei Siamo pronti per proseguire, vi invito subito a lasciare un bel mi piace E un commento rispondendo alla domanda del giorno che Se non succederà nulla di particolare in questa parte sarà La vostra host preferita perché questa qua sinceramente mi piace tantissimo Nel frattempo qua c'è quello che sembra essere il monte pepita di questa regione Vediamo cosa hai da mandarmi Frisk Vai, allora aspettate vi faccio vedere il moveset di John Frog che è questo sostanzialmente Gli altri non dovrebbero aver cambiato di moveset Vediamo di non prenderlo troppo in quel posto caro John Frog Eh ma tu sei un eroe, c'è poco da fare Zorua Water Gun Taunt Cosa vuol dire? Ok no, me la confondo sempre con attaccalite Ibno, perfetto Questa parte inizia con i migliori auspici Fai schifo? Dovrei aver preso anche dei rimedi effettivamente Confusione Sto cominciando a aver paura Ok switcho Calma, switcho Non ho intenzione ragazzi di perdere Pokémon Assolutamente no E ho intenzione anche sinceramente di trovare volo perché voglio L'attacchi vero? Voglio assolutamente evolvere Randall perché come qualcuno mi ha fatto giustamente notare nello scorso episodio Sta diventando un pochino scarso effettivamente Non è più in grado di fare Di dare quel supporto che dava inizialmente Comunque direi che possiamo proseguire Tu non hai maquita Me lo dice la regia Allora Spinarak va giù Va il plume Forse è il caso che io tolga John Frog ma Ok fermi tutti John Frog già rischia Tra l'altro ragazzi come vedete non si è evoluto in Polited Io non so come farò ad evolverlo in Poliwhirl Perché io tecnicamente poi una pietra idrica l'avevo anche trovata ok Però siccome sono stupido l'ho venduta E quindi ma non ho le cose per evolverlo praticamente Quindi paradossalmente potremmo portarci John Frog non alla sua forma 100% Fino alla fine dell'avventura Che bello Comunque gli ritiriamo il fortuno Perché per oggi è già combattuto Cioè per ora è già combattuto Ah hai costruito il ponte Io speravo che mi dassi volo Non so eri un personaggio lì così messo a caso Pochina Thunderbolt Ciao è stato bello conoscerti Carvagna pure a te Via Livello 30 Si sono riabbassati Probabilmente Cose Cosa Cosa vuol dire Era Lance con il suo Dragonite Secondo me c'era un problema di fondo Perché quel Dragonite era attaccato a una fottuta ala di un aereo Qualcuno me lo spieghi Vi prego Nel frattempo Va giù Cranidos Oddio Slugma che schifezza No Raga Allora Non vorrei essere critico come il mio solito Però ho incontrato Tre Pokémon in quattro manosato amnesi Troppo buono Eh Ok Eh Sì Se fossero randomizzati sarebbe anche meglio Preparati ad affrontare il mio Super Ipom Questo qua raga E Amibon 79 Fisso E invece c'è uno Spiritom Che verosimilmente hai preso anche tu dal tipo Lai in alto alla torre Miss Majus Eccolo qua Miss Majus Direttamente dalla Crazy Lock Giù anche lui Gorebis Ma da Stavo per dire Randall fa stragi con Fulmine Già Davvero No Sul serio le fa le stragi Finchè non lo finisce Mi sento una merda in certe situazioni Tarzan Gigadrain No non hai capito Raga Tarzan è davvero forte Ma qualcuno mi ha detto Depositolo perché è OP Però raga il gioco è difficile Non posso permettermi di Di depositare certi Pokémon Lo so che è overused Come lo schifo Che c'è un team di Mai overused E che lui è un pochino stona In questa situazione Però strumento Una Ultraball Però raga Appunto Il gioco è difficile Non me la sento di rischiare Ma giusto io che continuo pure Con Ahem Ok Nel frattempo Siamo nel bosco di Dardask Che è davvero bello Hai giocato in questo bosco Per la tua Nella tua infanzia No stavo dicendo appunto Non ho intenzione di privarmi Ah cazzo Subito la cattura E Un veniped Ok Non l'avevamo già preso Anche qua evidentemente Non si sono ben randomizzati Adesso controllo meglio Ma No figliolo caro Devi entrare Allora Io e te Dobbiamo fare un patto Diciamo Ecco Ah giusto Io però sono anche stupido Perché avevo Thunderwave Ultra volente Se non ci entri Ti libero Ok c'è Ti libero Ciao Centipede Pokemon centipede Come lo chiamo E ciao Buonanotte Non me ne vogliate raga La tristezza La vedete anche nel mio volto Ma è per proseguire questa serie Perché se no rimanevo a fermo mezz'ora A pensare a quel soprannome Si sono sconvolto anch'io ragazzi Perdonatemi Questa parte qua Probabilmente non avrà più un commentary Perché io non parlerò più Oddio Che soprannome Spero di non dovere mai Spero di non essere mai costretto Ad utilizzarlo quel pokemon Perché Mamma mia Ha i brividi Solo a pensarci Proseguiamo Nel frattempo Controllo se c'è qualche pokemon Figo Non manchelax Decisamente Assolutamente Non manchelax Vabbè Però qualcun altro Non ce l'ha I Caterpie Bello schifo Uh Markro Markro Sarebbe stato tanta roba Markro Mi sarebbe piaciuto un botto Anche se Il soprannome per lui Non ce l'avevo tu Ok I pokemon Di tipo Coleotter Sono molto forti Si sono allenati Decentemente Questo lo sa Il buon Pigliamosco Del primo percorso Di cui non ricordo il nome Raffaele Tipo Ok eccolo qua Sono pronto Per una grande battaglia Probabilmente Farai cagare Come tutti i tuoi amici Esattamente Grande battaglia Incredibile Mi sfidano in pochi In sto bo E soprattutto Non vogliono parlarmi Ecco qua un altro bullo Salamence Giusto No ma ha senso Perché un bullo Non dovrebbe avere un salamence Scusatemi Sostituisci 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 Twister Tornado Che penso sia la mossa di drago Meno utilizzata di sempre Perché fa schifo Come Oh quello lì E' quello di pokemon E' quella penso Di pokemon ranger Quindi fermi tutti Mi sa che mi sfida Volevo prendere lo strumento Fai schifo Dai Vabbè Vediamo cosa hai da dirmi Wow E' passato E' passato It's been Ah Ah Wild E' passato Un attimo Wild Dovrebbe essere Momento E' passato Un momento Dall'ultimo nostro incontro Creepy Spero che tutti sia allenato Molto Spero che tutti sia Ben allenato Ho dei pochi Ah io l'ho Ok perfetto Ci sono Ci sono Ci sono Tranquilli C'ho il B2 In inglese Io l'ho fatto E ora il mio team Di pokemon è forte Perfetto Io C'è sto facendo Lo spavaldo Battendo le mani Però c'ho Kaga No Mandy Bazz Che incubo Sto po' Lo sapevo Che lo dovevo sostituire Sia Lo sapevo Vai giù A parte che sto stronzo Ci avrà in seguimento Come il suo amichetto Scemo Flamethrower Giù anche lui Ti prego A livello 40 Butta lo giù lo stesso Sì Nidorino Che livello è 39 Ok forse ce l'ha fatta Sia Perfetto Ragazzi Sia è OP Ottimo Sia è fortissima Ole Hai detto che vai da qualche parte Non t'ho cagato Perché volevo Questo etere Ole Perfetto Gli strumenti utili No Sais Ragazzi Saiter l'avrei voluto in squadra Tutta la vita Uno dei miei poco Ancoliotteri preferiti E si trova solo qua Tra l'altro Perché prima non l'ho trovato Ok ho ritrovato Arteriped Mamma mia Che tristezza la vita Tu immagino che mi sfiderei Un altro ponte Ragazzi In sta regione qua Si sono divertiti a costruire ponti Non switcherò mai No proprio per nulla E tu sei pure stupido Che mi fai morso Ciao È stato un piacere Gorebis Pure questo qua È di tipo acqua Giù anche lui E Sharpido Questo qua Ce l'avrò una vita schifosa Questa cosa era la DDG E tra l'altro Io appena ho mandato Randall Che non ha Thunderbolt Ah Com'è possibile sta cosa Fermi tutti Bucefalo Mi gratta la testa Ah tra l'altro Questo qua è il primo video Gameplay che vedete Con i capelli Ufficiali Cioè nel senso Con la capigliatura invernale Quella che io chiamo Capigliatura invernale Perché di fatto È la capigliatura invernale Non l'avreste mai detto Eh no Ah ok Hai cercato di capire Come Mi sto segando Oh grazie Oh Cosa vedo Cosa vedo Lo avete visto anche voi Signori miei A parte questo Blazigan C'era Un puto Begon Come direbbero i miei amici Spagnoli Shadow wall giù Olè Perfetto Livello 45 Varebbe imparare Maledizione No è una mossa Troppo rischiosa In una challenge Ehm Allora Guarda War Tarzan Lo spitti No C'ho una vita di merda Sì No Eh Buttalo giù Ok Oddio Qua me la sono rischiata Tantissimo Ehm Purtroppo raga Vabbè Mettendo avanti Sascha Gli diamo pure Il fortuno In questo momento Tarzan è scarso Perché lui basa La sua potenza Sul giga assorbimento Emo il giga assorbimento È finito Sempre in mezzo Al cazzo Non ho parole Tu È un Begon Molto loquace Ciao Ehi Creepy Aiutami a calmare Il mio Begon Cosa devo fare Oh Wow È stato difficile Grazie per avermi aiutato A calmare il mio Begon È molto nervoso Ultimamente Penso che si stia Per evolvere Preso Ah Bello Cioè è bella Questo riferimento Perché Begon Guarda giù Perché lui vola E allora Carina come cosa Caro Red Ok Torco Hai solo due Pokémon sul serio Waterpulse Non mi far del male Fisico Ok perfetto No protect No protect Volevi Ole Giù E poi Lilip Oddio Io Lilip Rega lo confondo Sempre con Fluffy Non so perché Carina la cosa Che facevi solo Puntini 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 È riferimento palese Sai Stai diventando Stai diventando fortunato Mentre combatti Ma posso notare Anche che Sei molto più forte Di quanto fossi prima Hai battuto I nemici Molto impegnativi Ole Perfetto Siamo a 11 minuti Possiamo tranquillamente Proseguire E Tu mi sfidi No Sei inutile Sei inutile Perfetto Aspettate Qual è la strada giusta Direi che quella là E l'Isir Ottimo Ragazzi Questi qua Saranno utilissimi Io li uso un sacco Sappiatelo Soprattutto alle varie Leghe Pokémon A differenza di C'avete Tutti Il fottuto Blastoise A differenza Degli strumenti Come PPSU O addirittura PSSU Che è ancora più inutile Che io Schifo Come se non ci fossero Domani Bucefalo Ti prego No dicevo appunto A differenza di quegli strumenti Cosa lo utilizzo Ah ecco giusto Bucefalo Ha imparato Trash ragazzi Che sarebbe colpo In pratica Esattamente E giù anche questo Corfish No ci speravo Che non si confondesse Vai giù Vai giù Vai giù Olè Perfetto Raga Bucefalo Lo sta aprendo Di violenza Dio L'ha distrutto Che poi L'ha distrutta Perché è una femmina Io ho questi problemi A livello Proprio Di riconoscere La gente Ok Allora Poké TM09 Dimmi che qualcosa È buono Bullets Spiegatemi Perché ne ho due Spiegatemi Perché ho due Stesse MT Gioco Cosa stai facendo E vi ricordo E vi ricordo Perché scappano Tutti Sto gioco Vi ricordo Che gli strumenti Non sono Randomizzati Quindi è proprio Il gioco Che è stupido E mi dà Certi Non so Secondo voi Cosa dovrei dire Secondo voi Cosa dovrei dire Sono quelli di prima Ovvio E io che me lo chiedo Anche Gardevoir Eh Ti pareva Icebeam Psychic Ma sono di tipo Psichico Sei pure Drogato Oltre che Stronzo Niente da fare Niente da fare Niente da fare Il randomizzatore Fa schifo Perché c'è un uccellino Qua Com'è La foresta Rovina La mia vista Delle stelle Il mio va il plume È fantastico Trovatemi Quello che non va In questa frase Enermitown Ottimo Ottimo così Perfetto Siamo a Enermitown E allora Qua c'è una grotta Innanzitutto Che è il monte Shuem Che in realtà È una collinata schifosa Ma va bene Va bene Va bene Noi ci fidiamo Una palestrina Ce l'avete qua No eh Allora Esploriamo un pochino La città E poi se abbiamo tempo Io non li sopporto più Pi giù Oh Io blocco il gioco E questo dorme Giusto Almeno lui Sì Almeno lui Non scapa Non fa il fonà Perché mi devono fare Innervosire Mannaggia loro Come Ah di certo Non lo schifo Ok Io mi dimentico Io mi dimentico sempre Che praticamente Ragazzi Per andare avanti Dopo che avete ottenuto Un pokémon Dovete riparlare Al tipo Io mi dimentico Sempre che così Aspettate un attimo Perché abbiamo ottenuto Un riolu Quindi Voglio capire Se È a livello 10 Tra l'altro Spider Tu Hai fatto una brutta fine E quindi devi andare Di qua tra i morti Ok Perfetto Tra l'altro Driflun Il soprannome Non l'ho mai dato Poi troverò I soprannomi Anche per loro Stavo solo Controllando Se avevo Tutti i soprannomi Pronti Ok Ehm Pensavo 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 Che devo esplorare Ancora Oh Questa qua Non era la casa Di prima No Tutti che mi scappano Ovviamente non si è mai Come Ehm Ah ok Perfetto Ci spiega Delle evoluzioni Divi Ottimo No Perché non mi dai Volo e mi dai Forza Perché fai così Schifo Non mi serve Forza Ma non ho ancora Trovato un masso In tutto il gioco Ma sei serio Ok Questo qua È un padre Disperato Però Verosimilmente Ubriaco Perché Raga Lì sul divano Con la birra Rebecca E Renata Renata Neanche in Calabria Vi chiamano Renata Ancora un attimo Questa qua È la casa di primo Ok Questa città È la cosa più insulsa Che abbiamo mai visto Negli ultimi vent'anni No Sei sempre In mezzo Al cazzo Sempre in mezzo Al cazzo Wow Oddio Era quotato a zero Floatzel Fermi tutti Allora Lovekiss Lo addormentiamo Mettiamo Tarzan E lo purghiamo Con Giga Drain Olè Perfetto Guarda che cosa bella Octillery Giga Drain Qui cattà Grazie Davvero Ok Nidoking Fermi Sasha Perfetto Sasha Icebeam E giù Olè Perfetto Battuto Gold E raga Sono ovunque Ok Perfetto Questo qua È il monte Shuen Dal nome Veramente Epico C'è No Allora Io C'è Ogni tanto Io mi chiedo Che cosa Proprio C'è Solo che cosa Non qualcosa Dopo Solo che cosa C'è Perché io Entrando in questo monte Ho sentito Le porte Della Metallica Che si aprivano Che monte Scusami Ci abitano gli alieni John Frog Oh Non mi far già incazzare Che t'ho T'ho portato in squadra Come idolo indiscusso Non è che mi puoi fare Devi dare il buon esempio Agli altri pokemon Gotit Quanti cazzo ne hai Quattro Future Sight Ma muori Ole Fermi No perché Ci sono le porte metalliche In un monte Che avrà 126.000 anni Questa cosa qua Mi è piaciuta Ok Tra l'altro Possiamo fare una Cattura al monte Shuen Ormai non ci conto Più sul fattore Randomizzati o no No questo è randomizzato Per forza però Ed è uno Shelgon Soprattutto E soprattutto È tanta roba Shelgon ragazzi Shelgon lo voglio prendere Perché sarebbe una riserva D'oro Letteralmente Sarebbe fantastico Uno Shelgon Adesso controlliamo Se sono randomizzati Ma direi di sì Oh Preso Perfetto Vai così Ehm Shelgon Allora Shelgon è un Pokémon Che vorrebbe volare E che si sta preparando A volare E quindi Potrei chiamarlo Con un nome Legato al volo Appunto Ehm Non saprei Sinceramente Ehm Vediamo Un Pokémon Ehm Articuno Così Qualcosa Mi dice Dalla regia Che qua dentro Sono randomizzati Ottimo Ma davvero Creepy Che intuito Tra l'altro Non mi ricordo C'è un mio iscritto Non vorrei dire una cagata Doresti chiamarti Shine Blue Qualcosa del genere Scusami Ho la memoria corta Che mi rinfaccio Sempre Quanto faccio Faccio cagare Randall E vabbè Nulla Mi fa collassare Perché i suoi commenti Sono fantastici Anche questi Pokémon Sono fantastici Però il repellente Può accompagnare solo E nulla Saluto questo iscritto Che è uno dei più attivi Quindi diciamo che Mi ricordo Particolarmente bene di lui Intanto questo Kyogre qua Mi ha dato più punti Esperienza Che Di quanti ne abbia mai presi In tutta la mia vita Kat Kat Ah ok Era Myror Move Tipo Sì Una roba del genere Randall Vai con Vai con Thunderbolt Cattivo Mi gratta al naso Non ci posso credere Perché mi deve grattare al naso In questi momenti importanti Finding Pokémon Are strong against rock Pokémon Meno male che ci sei tu Che me l'hai detto Oh È un vulcano È un vulcano Davvero Me lo dici così Queste qua si possono spaccare No C'è un vulcano Così dal nulla Forse Gold Me l'aveva detto Ma io non l'ho cagato Ma lasciamo perdere Ok Fermi tutti Con Lava Surf Cos'è Lava Surf Ragazzi Lava Surf Allora Presumo di poter continuare A sto punto Qua c'è un lago Perfetto Di là c'è un lago di lava Di qua c'è un Lago Quella persona lì Non è normale Sunny Day Allora calma Chi sei Secondo me è Silver Rag Non vorrei sperare Una cagata Pensavo sempre Ciao buonanotte Ho sempre pensato Che il tramonto Al lago Marfeni Fosse Una delle migliori cose Del mondo intero Tutto il rosso E l'arancione È davvero spettacolare Sembri un allenatore Di Pocon Felice di conoscerti Anch'io sono allenatore In questo momento Sono capopalestra Della regione Di Loren Sto solo visitando Qua ma vorrei aiutarti Cos'è Lava Surf Perfetto L'abbiamo ottenuta No comunque Non è Silver Direi che è un capopalestra Di tipo fuoco Ragazzi sapete cosa Vi dico Innanzitutto vi dico Che in sta città Non c'è un market Ma vi dico Che io quest'oggi Vi porto un episodio Un pochino più lungo E andiamo ad esplorare Questo monte Spero che vi faccia piacere Perché sinceramente Voglio scoprirlo anch'io Quindi Perché no 27 So Casa libera ancora per un po' Posso registrare con molta calma Ora che ci penso La mossa la devo insegnare a qualcuno Tra l'altro Quanto è forte sta mossa Giusto per sapere Ah bello Potrebbe essere un problema Di fondo questo Questo potrebbe essere Un problema di fondo Anche perché io dubito Di avere un pokemon Che possa imparare Sta mossa E Infatti Infatti Questo è ufficialmente Un problema Allora vediamo se L'unico indiziato È Shelgon Però raga A sto punto Se non lo trovo Faccio che stoppare L'episodio Oh che culo Invece Che culo Perfetto Aspettate Fatemi decidere Un pokemon Da depositare No aspetta Ok perfetto E boh direi Di tenere Randall Per il momento Dato che Appunto Io c'ho sempre Il terrore Che questo qua Non Muoia Tipo No No volevo Vedere Piuttosto È 95 Di potenza Non è per nulla Male sta mossa Ok perfetto Possiamo usare Lava surf No C'è mancargo Tra l'altro io non sto Facendo niente Sto facendo solo Ma raga C'è mancargo Ma questa cosa qua È bellissima Io qua voglio Un applauso Per i creatori Voglio che in questo momento Voi da casa Vi alzate in piedi E applaudite Perché sta cosa qua È bellissima Sicuramente la metterò In miniatura Perché è qualcosa Di stupendo Ok Ninthens contro John Frog Il mio Pokémon preferito Contro il mio eroe preferito Mi va via la voce A commentare una battaglia Così importante John 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 Sei un ritardato Sei un ritardato Perché stai facendo così schifo Non sta deludendo Le aspettative Oh perfetto Vedi Sei rimesso subito Fermi tutti Ecco Quando ti chiedi Perché hai depositato Randall Quando ti chiedi Perché questo qua C'è la madre puttana Daie Oh Trash Ti mando a casa Vogliamo morire Grazie Ole Gotitel Via Via Ormai raga Sì Me ne sono accorto Che sono i Pokémon Di quello di prima Ma non ci faccio più caso Sinceramente Ormai A voglia TM35 Che è Flamethrower Perfetto L'avevo già ottenuto una Va bene così Mi piace Ah ok perfetto Ci sono posti in cui si può utilizzare Scalaroccia Deduco quindi che abbiano introdotto anche Scalaroccia in questo gioco E quindi tanta roba Il resto però l'avevamo fatto anche in Eclipse Un altro Chiogre Io non ho più parole Ma appunto una zanzara sul piede Porca puttana Allora Nel frattempo Tarzan lo manda a casa Diugong Gigadrain è giù Ah ok perfetto Ehm No si diceva Si diceva Ehm Non mi ricordo cosa si diceva Bene Questa cosa qua passerà in secondo piano Nel caso poi se mi dovesse tornare in mente ve lo dirò Basta Naso maledetto Ma mi gratta tantissimo raga Ma non avete idea Ma e tra l'altro non sono allergico Cioè non è Non ho ancora subito I parti dell'allergia Voi durante l'inverno Dovete sapere Ti chiami zero Sei tipo zero Perfetto Confirmed Ok Io non t'ho ascoltato Però ti rispondo di si Ma mi hai dato un day No cosa hai fatto E non posso ottenerlo Non fa parte della crazy lock Ehm Sto andando in confusione Raga io Cioè non riesco a concepire il fatto Ogni volta che incontro una persona Qua dentro Intanto un'antiscottatura Ogni volta che incontro una persona Importante mi fa Ehi ciao Sei un allenatore di pokemon E puntualmente mi sfida Invece questo qua mi regalava i day No Giusto così Grazie Hai fatto solo un piacere figliolo Adesso vai a casa Te la sei cercata Ninetase Io c'ho water pulse E ti mando a casa No invece hai retto Vai a casa adesso Perfetto Sasha a livello 47 Raga Sasha è fortissima Io sinceramente non ho parole È devastante Pursuit Psy cup Che cosa faceva Ehm no Più che altro che mo sai Dovrebbe essere psica misura Se non sbaglio Tu Questo posto è molto caldo Ma giura Sei in un vulcano Sai che non l'avrei mai detto Tra l'altro da questa parte del monte Non sono randomizzati Evidentemente E la madonna Però quanto è lungo Cioè Non il monte Non altre cose Di cui non vorrei Ehm Ribadire la Quello Allora Io quello lì non l'ho visto Non l'ho visto Però è un tipo Fermo In mezzo alla strada Secondo voi Chi cazzo è Sarà un figlio di puttana Che vorrà sfidarmi Ovvio No Invece no È un campeggista Mi scusi Se l'ho dato del figlio di puttana Torko Fermi tutti Allora Perché tu non mi hai sfidato Ad esempio Ah Fossile cielo Aspettate Fossile cielo Sono abbastanza convinto Che in pokemon Non esista Ergo Che abbiano introdotto Un nuovo fossile Io Sborro Se hanno fatto una roba del genere Sul serio Muori Tra l'altro nel frattempo Vi sarete accorti Come Bucefalo stesse per morire Io non me ne stessi Preoccupando minimamente Vi sarete accorti Sicuramente Come nel frammento Della registrazione La luce Sia andata Calorosamente A puttane Stavo per fare una boiata In mane Che non avete idea Horn attack Vai giù Ok Battuto Carlos Tra l'altro Raga Mamma mia Con sto condividi Esperienza I pokemon Cioè Scusatemi Col fortu nuovo Grazie Le borse Stronze Cosa buttiamo Raga Devo Devo scegliere Qualcosa Da buttare Ma chi L'userà mai Un burnil Effettivamente Cioè Voglio dire Davvero Credete che un burnil Sia utile Un burnil Cioè proprio Con l'inglese Che affiora Tutte le parti Pietra dura Ok Lì c'è un cartello Quindi deduco Che il monte Sia finito Quasi Posso immaginare Il suo dialogo Senza vederlo Ciao creepy E' passato tanto tempo Sei diventato molto forte All'ultimo alto Vuoi sfidarmi? Ma gli allenatori Qua erano patetici Ottimo Mi fa piacere Che tu abbia Così tanta considerazione Ma anche tu Sei patetico Figliolo mio E finché Noi mandi in campo Un kingdra A quel punto Possiamo ritrattare La tua pateticità Tu non mi fai del male Vero? No Twister Gigadrain Vai giù Se fallisci Di picchio Olè Perfetto No Chiamandà Ad Astax Perfetto Allora non c'è di che Preoccuparsi No Non fallire Non fallire Ma andiamo sia Perché ho fatto smog? C'ho la segatura Nel cervello Toxic Me ne ha avvelenati 26 Vuoi avvelenarmi? La madonna No No Fermatelo Fermatelo Impazzito Sei drogato Sei fatto di coca Muori Oh Ma come dove siamo? Una giungla Cazzo Vai via Oh Eh sì Ho 26 persone avvelenate Voglio anche proseguire Neanche Lord Randall Era così avvelenato È finito È finito Se non ci Uno stronzo in mezzo Ma va bene così Un altro Percorso Allora raga Direi di fare la cattura Su sto percorso E poi di stoppare L'episodio Che è già colossale Tipo E nel prossimo Arriveremo alla fine Di questo percorso Tra l'altro Io non ho mappacità No eh No perfetto Vaffanculo Hardstone schifosa Chi ti vuole Pietra dura C'è c'ho un'altra cosa Dura io Se ti va Ah Krogang Ne ho visti 200 Ormai so pure imitare Il suo verso Da quante volte l'ho visto E sentito Soprattutto Muori My Milotic No questo qua mi fa paura Effettivamente Ok finché fai twister Non fai paura a nessuno Giù Dai che siamo quasi al 47 Usteria E i tape lusion Non sei da prendere sotto gamba Effettivamente E io infatti Switcho E io infatti Switcho E io infatti Switcho Attacco rapido Eh Volevi 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 senza cipolla Volevi Ehm Allora tu stai cercando un po' Come un forte Spera Di trovarlo Si trovano anche così a caso Un cubone Un cubone Carino Tra l'altro A livello 28 Che è altino Prendiamolo 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 Tra l'altro Devo stoppare Tra un attimo Cioè proprio Lo prendiamo E poi stoppo l'episodio Perché Mi è arrivata gente in casa Quindi Oh perfetto L'abbiamo preso Ehm Lo chiamiamo Ehm Pokémon solitario Vesso il cubone Si può fare tanto Black humor Ehm Lo chiamiamo Only Child Che poi In teoria In inglese Only child Non vuol dire Cioè vuol dire Figlio unico Però fa niente Noi ce ne sbattiamo Vediamo che altri Pokémon c'erano Un Hippopotas E poi Abbiamo Hippopotas Non sarebbe stato Pessimo Drill Bur Me Baltoia Aborto Scandaloso Ok perfetto No I Pokémon sono sempre gli stessi Signori miei Io vi do appuntamento Nel prossimo episodio Di Pokémon Light Platinum Spero che questo vi sia piaciuto Se così vi invito Come al solito A cercare un bel mi piace A commentare E a iscrivervi al canale Se l'avete ancora fatto Mi raccomando Rispondete a domande del giorno Che si troverà Qua sotto nella side Dove ripostate i social Che invece saranno In descrizione Da 12 giorni Ci becchiamo In un prossimo Video